come pulire infissi in pvc effetto legno? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi oggi ti rispondo a questa domanda perché l'infisso in pvc effetto legno è un infisso in pvc al quale è stata applicata una pellicola è stata proprio incollata c'è una tecnologia che nel pvc si usa praticamente da sempre e questa pellicola può essere più delicata cioè rispetto a un pvc bianco senza effetto legno quindi devi stare attento a non utilizzare dei materiali aggressivi cioè degli sgrassanti aggressivi quindi anche lo chant eclair usato a piccole dose ad esempio proprio se hai un problema localizzato solo in un punto e poi a tamponare subito e a pulire subito con l'acqua e soprattutto di non utilizzare delle spugne abrasive perché le spugne abrasive andrebbero proprio a rigare e potrebbero anche consumare la pellicola quindi potresti avere un infisso brutto da vedere irreparabile e potrebbe proprio svanire l'effetto legno quindi le venature del legno potrebbero sparire fai molto attenzione soprattutto alla spugna che utilizzi se invece gli infissi sono stati rovinati e ne devi acquistare dei nuovi e probabilmente ti potrebbe essere utile avere un consiglio su quale scelte fare su quale finitura più resistente e proprio per questo motivo ho creato il servizio di consulenza con sistema bisacchi puoi saperne di più sul mio blog www.blogbisacchi.it dove puoi richiedere una consulenza personalizzata ciao e al prossimo video iscriviti al nostro canale